Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Da questa notte possibili disagi sulla rete dei bus notturni per lo sciopero del trasporto pubblico che si svolge nell'ambito della protesta generale indetta per il 23 ottobre dal sindacato CUB. Nella giornata di domani il funzionamento delle linee sulle reti di Atac e Roma TPL non sarà garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nelle stazioni della metro le biglietterie potrebbero sospendere l'attività. Tutti gli aggiornamenti si potranno seguire sul sito romamobilita.it e sul profilo Twitter Roma Mobilita. Le altre notizie da oggi si ferma. La linea integrativa S01 Ponte Mammolo Termini dopo che già era stata disattivata la S02 Anagnina Termini. I collegamenti erano in strada da metà settembre a supporto di metro A e metro B. La sospensione è stata decisa dopo lo scarso utilizzo da parte dei pendolari ma in base all'andamento dell'emergenza sanitaria potrebbero essere riattivate anche su tratte differenti. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della mobilità. Grazie a tutti.